mia e basta io uso la terra di Ula e raga io penso che è simpaticissimo ma le persone del Veneto personalmente la città dove sta la mia famiglia stanno solo persone straniere sia fuori Italia che d'Italia che sono andate in Veneto per lavoro penso di non aver conosciuto praticamente nessuno che effettivamente era di Vicenza no, non mi sento con un certo Ciro in realtà non mi sono mai sentita con un ragazzo che si chiamasse Ciro neanche in passato wow che con le tue rose sono sempre un'altra cosa sì, sono andata varie volte a Milano e non mi piace particolarmente come città è troppo fredda sì, già sapevo di essere una fata grazie per avermelo ricordato no, quella di Ula tesoro le scoschi mi è piaciuto molto una famiglia vincente Aitonia Bronx Blue ci sono miliardi ora vorrei vedere un bel film ma se guardo un film domani sto distrutta in palestra sì, farò un nuovo make-up tutorial non mi sento popolare staresti con un ragazzo del nord se mi fai innamorare, certo non ho pregiudizi ben venga ti amo comunque che stavo dicendo non mi ricordo mia attrice favorita penso Belta porcaroli mi gusta molto mi trovo benissimo perché la palestra è vuota e sto bella carica Alessandra ma perché sei così curiosa sulla mia vita sentimentale già l'ho visto come farsi lasciare in dieci giorni stupendo meraviglioso bellissimo mi piacciono molto quel genere di film ho visto anche Mean Girls così tanti amici di letto così qua così romantici mi piacciono anche se preferisco quelli pop series ma infatti sì ma che buoni sono io sono abituata a chi viene nella mia città no che vado io nella città di qualcuno ma sai quante persone anche in privato su Instagram ti aspetto qua quando viene qua tu mi stai scrivendo tu e venila Gesù la sua sta un'obsessione no no è amor è obsesione posso parlare spagnolo claro però tenemos que ver più spagnoli in questo direttore perché non posso parlare spagnolo se ci sono più italiani no non tengo ninguna relazione amorosa hoi certo che l'ho vista tra i miei preferiti di quel genere sì sono andata ieri stasera no stasera no perché già ero andata venerdì al music e ieri al club quindi sinceramente non è che campo per andare a ballare certo che ho lavorato leggo leggo molto nel mio tempo libero e lo sfrutto anche per coltivare i rapporti sia di amicizia che familiare tengo 19 anni un film di quel genere muovendo Netflix quindi che ho guardato perché dovete sapere che è un problema le cose nel senso tipo tu mi chiedi il mio film preferito io ti dico non ce l'ho poi tipo tre ore dopo quella conversazione io dico oh però forse quello è il mio film preferito stessa cosa tipo non so con un'attrice una canzone comunque quindi adesso apriamo il mio Netflix questa è l'ultima cosa che farò in diretta prima di andare a dormire mio caro quindi o per mia cara non lo so quindi sei molto fortunata scherzo mi fa piacere dare un consiglio allora allora continua a guardare tre metri sopra il cielo ecco qua lo stavo rivedendo per la vedete questo è molto bello ma secondo me già la visto allora allora film premiati la mia lista mia non mi leccare basta raga pure i vostri cani hanno l'ossessione di darvi i baci H24 allora d'amore 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 ecco infatti la mia lista stanno tutto why The Irishman le cose sulla guerra The Social Dilemma guarda qua ma perché sono così pesante ma guarda un film d'amore stai zitta ma questo è il mio account Babbo praticamente è entrato sicuramente nel mio account perché ci sono troppi documentari non ne vedo così tanti no 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 gli addominali purtroppo neanche la pancia piatta ad oggi perché ho fatto schifo ad agosto da domani si torna alle vecchie sane abitudini come tu mi vuoi molto bello e poco conosciuto sempre di quel genere se no vorrei cercare la sezione di quelli là che già ho visto tipo da rivedere ecco film motivanti questa è proprio la mia categoria di film preferiti in assoluto sono andata sia a Miconosso che a Ischia già l'ho visto dici cose che odio di te è bellissimo uno dei miei preferiti La La Land La La Land è bellissimo da rivedere eccoci allora La La Land sicuramente pure te lo consiglio la dura verità no non questo sai quale è stupendo ecco la verità è che non gli piace abbastanza uno dei miei film preferiti vedi ad esempio l'avevo rimosso dal mio cervello e ora quando mi diranno i tuoi film preferiti mi ricorderò di dirlo vedi sui scordarella bravo vedi la verità che non ti piace abbastanza ma è ancora in diretta la persona che mi aveva chiesto sto fatto oppure io sto parlando a bambina userei e sceglierei Scarface come film no non l'ho vista è bello Vicky Blinders si l'ho vista ma l'ho un capello nell'occhio dove sta? non E' l'intepto.